Il 5 maggio 1821, Napoleone Bonaparte morì in esilio a Sant'Elena. Poiché ai tempi non esistevano i telegiornali e internet, la notizia non viaggiò propriamente rapida come la folgore, tanto che a Milano arriverà solamente il 16 luglio, praticamente oltre due mesi dopo. Alessandro Manzoni, che tutti noi ringraziamo per aver scritto i promessi sposi e averci fatto confusione dicendoci che i bravi sono cattivi e che se fai un voto di castità è un casino? Si arma di carta e penna in soli due giorni dal 17 al 19 luglio, scrive quest'ode intitolata proprio il 5 maggio. Un'ode dedicata a Napoleone, dove però Napoleone non verrà mai esplicitamente nominato, come dire, ti dico Piazza Navona, Fontana di Trevie, Cacio e Pepe, ma non ti dico Roma, ma non ce n'è bisogno perché l'hai già capito. Quest'ode, o meglio parti di quest'ode ve le ritroverete davanti per tutto il resto della vostra vita, come l'attacco, il famosissimo e i fusi come immobile, oppure la celebre ai posteri l'ardua sentenza, che oggi viene usata per qualunque cosa. Ma chi è il Napoleone di cui si parla in quest'opera? Il condottiero? È l'uomo? È colui che si è convertito a Dio poco prima di morire? Un po' di tutto. Lo stesso Manzoni, che è molto sensibile alle questioni religiose, deciderà di scrivere di getto l'opera, ricordiamo solamente due giorni, anche con un po' di correzioni, anche perché è affascinato dalla conversione del condottiero poco prima di morire, tanto che nel 5 maggio Manzoni si rivolge alla fedele e dice, ehi fede, guarda che nessuno di così importante ha deciso di chinare la testa di fronte alla croce, insomma fede, mica pizze e fichi. Fino ad allora il buon Alessandro aveva visto Napoleone solamente una volta, Milano alla scala quando era un giovincello e non si era mai sbilanciato, anche se una cosa lo aveva sempre attirato, gli occhi, che nel 5 maggio vengono definiti rai fulminei, tipo i raggi fotonici di Mazzinca. Nel 5 maggio, nel cuore dell'opera, si fa riferimento alle incredibili imprese napoleoniche. Napoleone conobbe un po' di tutto, vittorie sconfitte, anzi celebra il passaggio, due volte nella polvere e due volte sull'altare. In un verso altrettanto famoso viene poi raccontato che cosa ha fatto Napoleone, dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarra a Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scillaltanai dall'una all'altro mar. In sostanza si fa riferimento alle varie campagne, quella italiana e quella egiziana, le Alpi e le piramide, quella spagnola, il Manzanarra e il fiume che scorre a Madrid, quella tedesca, ecco perché si cita il Reno, spaziando dal sud Italia, Scilla e tra la Calabria e la Sicilia, fino alla Russia perché il Tanai è l'antico nome per indicare il fiume Don. Insomma tutto questo popò di roba, fu gloria vera? Si chiede Manzoni e Manzoni si autorisponde, boh, ai posteri l'ardua sentenza. Perché all'Alessandro Milanese non interessano tanto le imprese mortali quanto la dimensione spirituale del Bonaparte, anche se di Napoleone viene esaltato il carisma. E i sinomò, verrà scritto, ossia fu lui stesso a nominarsi imperatore, perché quando il Papa si avvicinò per mettergli la corona in testa, lui gliela prese di mano, disse grazie faccio da solo, se la pose sul capo come per dire io mi sto autoproclamando, peraltro mettendosi in mezzo come spartiacque tra due secoli, il 1700, quello della rivoluzione, e il 1800, quello della restaurazione. Ma il moto dalle stelle alle stalle, che non è nel 5 maggio ma è comunque altrettanto famoso, si concretizza anche qui. E così arriva la guerra dei cento giorni, la battaglia di Waterloo e la prigionia a Sant'Elena, isola veramente a casa di Dio tra l'Africa e il Sud America, dove il governo britannico deciderà di rinchiudere Napoleone affinché, verrà detto, non possa più nuocere al mondo. Per Manzoni invece è il condottiero che alla fine si è rivolto e votato a Dio, e quindi è come se lo scrittore alla fine avesse deciso di sospendere ogni giudizio. Perché? Perché i posteri l'ardua sentenza.